Partita di cartello allo Stefano Lotti si affrontano Poggibonsi, Follonica, Gavorrano, partita valida per la trentesima giornata del Gironè della Serie D. Gli ospiti occupano il secondo posto in classifica con 57 punti, i padroni di casa sono noni nel ranking con 40 punti. Prima del match un minuto di silenzio per ricordare Mario Giovani, storico custode dell'impianto sportivo del Poggibonsi. Rotola il pallone allo Stefano Lotti. Dopo una fase di studio, prima emozione al 22esimo minuto, l'ex Vieri Regoli, calcia a botta sicura. Miracolo di Francesco Pacini, intervento da 10 del portierone Poggibonsese. 27 sul cronometro, calcio d'angolo per il Poggibonsi, stacca di testa Borri, pallone fuori di poco. Occasionissima per i giallorossi, oggi in casacca azzurra. 35esimo, ancora una volta Pacini, si oppone in maniera magistrale a Regoli. E in questa fase della partita il Follonica impensierisce più volte i leoni. 42esimo, Poggibonsi pericoloso, nuovamente da calcio piazzato, Rocchetti raccoglie il traversone. C'è la parata di Filippis che mette in calcio d'angolo. Poi qui Mazzolli, con un buon tentativo, manda il pallone fuori di poco. Nell'extra time, Motti autore di un primo tempo di ottima fattura con caparbietà e tecnica individuale. Sferra un fendente velenoso che si deposita in rete. 1-0 per il Poggibonsi, che gol per il numero 9. Finisce qui il primo tempo. Inizia la ripresa con il Poggibonsi in vantaggio. Dopo una manciata di istanti, Motti fa un'azione clamorosa. Da solo semina il panico nella difesa rosso-blu. Paura e delirio. Motti esagerato, doppietta personale. E 2-0 per il Poggibonsi. I leoni sono sugli scudi e volano sulle ali dell'entusiasmo. Producono due azioni consecutive. Ma in entrambi i casi non arriva il terzo gol. Dopo queste folate, Bicica non è preciso. La sua conclusione non è nello specchio. Dopo il grande inizio di ripresa da parte dei leoni, il Follonica Gavorrano prova a reagire. L'ex di Erna, adesso capitano del Follonica Gavorrano, con i tempi giusti in corna di testa e accorcia le distanze. Il risultato è 2-1. Ventesimo minuto. Prodezza balistica di Mazzolli. Lui è uno specialista dei calci piazzati. Traiettoria dalla geometria perfetta. Filippis tocca, ma non riesce ad evitare il 3-1. Ventiduesimo. Macri prova ad imitare Mazzolli, ma sulla sua strada trova il solito Paco, il quale respinge. Ancora Follonica, ma il seguente tentativo, seppur buono, non punge, si rimane sul 3-1 per i leoni. 28 sul cronometro dell'arbitro. Acqua fredda di Molfetta. Il pallone giunge in area sui piedi di Marcucci. C'è gloria anche per il Classe 2004, che segna il gol del 4-1. Il risultato assume i connotati di una goleada. Di fatto sventolano i vessilli giallorossi nella zona degli Ultras Poggi Bonzesi. Al triplice fischio è festa grande, salvezza quasi raggiunta e una vittoria dal tono roboante contro i secondi in classifica e finalisti della Coppa Italia. Una partita splendida per i leoni, che oggi hanno seriamente graffiato e ruggito.